Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme la spongata, un dolce tradizionale natalizio originario della provincia di Parma ma preparato anche nelle zone appenniniche dell'Emilia, della Liguria e della Toscana iscrivetevi al canale e partiamo subito con la preparazione della spongata la spongata è composta da una morbida frolla e un ripieno speziato a base di miele e frutta secca portiamo 100 grammi di biscotti secchi al tritatutto e li sminuziamo fino ad ottenere una grana fine e uniforme poi portiamo al tritatutto 50 grammi di noci tostate, 50 grammi di mandorle tostate, 50 grammi di nocciole tostate e un cucchiaio di zucchero semolato lo zucchero serve a evitare che la frutta secca si compatti per effetto dei grassi che vengono rilasciati e quindi facilita lo sminuzzamento portiamo in un pentolino 200 grammi di miele biologico e 100 millilitri di vino bianco secco accendiamo il fuoco a fiamma bassa e lasciamo sobollire per 2 o 3 minuti quindi aggiungiamo un pizzico di noce moscata versiamo i biscotti sminuzzati e mischiamo con una spatola aggiungiamo un pizzico di cannella un pizzico di pepe versiamo la frutta secca sminuzzata aggiungiamo 50 grammi di uva passa 30 grammi di cedro candito 20 grammi di arancia candita e 30 grammi di pinoli a questo punto mischiamo bene il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo copriamo con pellicola trasparente e lasciamo riposare fino al giorno seguente a temperatura ambiente quindi il giorno dopo prepariamo la frolla setacciando 300 grammi di farina 00 aggiungiamo 150 grammi di zucchero semolato un pizzico di sale e 100 grammi di burro ammorbidito a temperatura ambiente frulliamo usando la foglia a media velocità quando si forma una granella uniforme aggiungiamo un cucchiaio di olio d'oliva e 100 ml di vino bianco frizzante mischiamo fino a quando l'impasto diventerà omogeneo quindi prepariamo un piano di lavoro leggermente infarinato dividiamo l'impasto in due parti uguali e stendiamo la pasta con il mattarello a formare due dischi di circa 28 cm di diametro abbiamo precedentemente imburrato e rivestito con carta da forno il fondo di uno stampo precrostate da 26 cm di diametro adagiamo nello stampo il primo disco di pasta eliminiamo l'eccesso con una rotella tagliapasta versiamo il ripieno della spongata e lo stendiamo formando uno strato uniforme a questo punto non rimane che ricoprire il ripieno con il secondo disco di pasta e rifinire i contorni del dolce con la rotella tagliapasta inforniamo in forno statico pre-riscaldato a 180 gradi centigradi per 30 minuti lasciamo raffreddare e poi spolveriamo con zucchero a velo la spongata solitamente si consuma dopo diversi giorni di riposo in luogo asciutto e fresco per gustarne meglio gli aromi e per ottenere una frolla ancora più morbida se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti sui prossimi video scrivete un commento per farci sapere la vostra opinione fare domande o lasciare un saluto grazie e arrivederci